FC Lucca, sfortunata e pasticciona sotto porta. Rossoneri che per la prestazione in campo avrebbero meritato il passaggio del turno, ma si sa, nel calcio chi sbaglia paga e alla fine a gioire sono stati i giocatori del Pisa Sporting Club. Nel dopogara il commento di Giacomo Lazzini. Credo che la prestazione di oggi sia emblematica di quanto ci tenessimo, e quindi, ripeto, abbiamo delle defezioni importantissime, i partiti scolificati, Melani prima che iniziasse la partita l'ho mandata a casa perché aveva la febbra 38, De Vita ha dovuto giocare in condizioni precarie, però quando si dà tutto e quando si ha questo spirito, che credo che sia la forza di questa squadra, bisogna anche accettare delle sconfitte a volte immeritate, come è stata quella di oggi, e ripartire già da domenica cercando di arrivare prima possibile a quell'obiettivo che stiamo inseguendo da agosto. Buone notizie, oggi rientro di Costantin che mi sembra è entrato abbastanza subito in partita. Ma a dire il vero era rientrato domenica, poi lunedì in allenamento si è presentato con una caviglia gonfissima, l'abbiamo recuperato proprio oggi all'ultimo tuffo, e quindi però l'ho visto che stava abbastanza bene, quindi questo è sicuramente un segno positivo. Ora poi da venerdì rifaremo un po' la conta di tutti gli infortunati, di come stiamo, perché ripeto è importante dopo queste sconfitte ripartire subito alla grande e domenica abbiamo l'occasione giusta. A Montemurlo è una partita alla vostra portata. A Montemurlo è una squadra che segna tanto, è una squadra che subisce tanto, e quindi all'andata ci ha fatto patire tanto, e quindi è sicuramente una squadra da prendere con le molle, però ribadisco con questo spirito sono convinto che si possa riprendere la nostra marcia che ci deve portare prima possibile all'obiettivo della Serie D.